Riprende anche il calcio regionale un passo per volta. Il primo rinvio risaliva inizio gennaio quando la situazione sanitaria aveva imposto una modifica dei piani. Poi nei giorni successivi si era scelto di prendersi un'ulteriore settimana di tempo. L'ultimo, si spera comunicato, chiarisce ancora di più la situazione. A seguito delle ulteriori considerazioni emerse nell'ambito dell'incontro avvenuto il 14 tra i presidenti dei comitati regionali e il commissario straordinario della Lega Nazionale di Lettanti e preso atto delle difficoltà riscontrate e manifestate dalle società e dalle associazioni sportive in attesa dell'approvazione del Return to Play, il consiglio direttivo del comitato regionale piemontese ha deliberato il differimento della data d'inizio dei campionati e tornei regionali a sabato 12 e domenica 13 febbraio, precisando che verrà utilizzata la giornata di sabato 5 e domenica 6 febbraio per l'effettuazione delle gare di recupero. Il Return to Play appunto è il nuovo protocollo elaborato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana che è in attesa dell'approvazione da parte degli organismi governativi competenti. Riguarda la ripresa dell'attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal covid, un processo che comporta spese e una serie di passaggi burocratici. Resta confermato che il campionato di eccellenza riprenderà comunque in data 23 gennaio 2022 con la prima giornata di ritorno come già reso noto inizio mese. In sostanza quindi rimane confermato il ritorno in campo di Biellese e Fulgor Valdengo per questo fine settimana, un doppio impegno casalingo che vedrebbe la capolista, allenata da mister Rizzo, ospitare in corso 53esimo fanteria all'ostresa seconda della classe per la partita dell'anno. I rosso-blu valdenghesi sfiderebbero invece il Borgo Vercelli in una partita delicata per la salvezza. In promozione invece, Costato e Vigliano dovranno quindi continuare a lavorare in allenamento ancora per un mesetto in attesa di poter disputare l'ultima giornata del girone d'andata, la quindicesima, che segnerà il ritorno in campo rispettivamente contro Bianzè per i costatesi e Sparta-Novara per i giallorossi. Discorso diverso per la chiavazzese che, come detto prima, anticiperà i tempi per scendere in campo già sabato 5 in occasione del recupero casalingo contro il Piedimulera, sperando che questa rimescolata di date sia veramente l'ultima. Grazie 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 Grazie